sono offesi ecco le offese è un'offesa ha detto no no senza piove 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 poi piove finisce che poi piove davvero tu se lo dici lo dici lo ridici lo ridici poi va a finire che ci indovini a che volta se da due anni e scrivi sempre la stessa cosa ma non sarà mica qualità quella lì e sparare nel mucchio poi piano piano avviene quello che a qualità dice domani l'altro alle due piove e piove ma quello dice o e piove oggi sole piove domani sole piove in fondo all'anno piove no sole piove poi prossimo anno e va a finire in due anni piove e qual è il rassegnato sei tu se tu vuoi no no fermo rassegnato sei tu se tu vuoi a me ma avanza roba per mettertela a disposizione c'hai qualche problema allora se hai qualche problema a parlare io ti metto a disposizione quella che è la mia determinazione e il mio carattere perché a me per me me ne avanza ma a me anche fatte il mio carattere anche qua